Il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, chiama a raccolta tutta la politica di qualsiasi colore affinché si promuovano azioni sugli aspetti sanitari per superare la difficile situazione della Valle Peligna. Il primo cittadino di Sulmona è sempre più preoccupato dalla diffusione del contagio del coronavirus in città e nel comprensorio. Vista l'attuale situazione, dice ancora Anna Maria Casini, cosa accadrà il 24 settembre quando si riapriranno le scuole. Casini, preoccupata dall'imminente apertura dell'anno scolastico, insiste affinché la regione disponga l'invio di personale per eseguire l'analisi dei tamponi ricordando che già da giugno l'amministrazione comunale sta lavorando con una corsa contro il tempo sulle strutture scolastiche per consentire il rientro nella maniera migliore possibile. L'ordinanza sull'obbligo delle mascherine all'aperto durante tutta la giornata era già in vigore dai giorni scorsi ricorda la Casini e la mappa del contagio è ferma domenica solo perché nel fine settimana non sono stati eseguiti i tamponi. Manca il personale per accelerare lo screening sanitario e circoscrivere il contagio di Focolai che, come ha ribadito la regione e la stessa ASL continua ancora la Casini, sono individuati e circoscritti dunque tracciabili con l'intensificarsi dei tamponi. Nel frattempo ieri il presidente Marsilio aveva reso note le azioni della regione per cercare di contenere il contagio nella Valle Peligna. Assumere alcune iniziative più restrittive rafforzando alcuni presidi come l'utilizzo delle mascherine per tutta la giornata anche negli spazi all'aperto, la chiusura entro un certo orario, entro le ore 20, dei locali come bar che provocano appunto riunioni assembramenti, il divieto di fare feste sia pubbliche che private che sono state la fonte di alcuni almeno dei Focolai accertati. Per il resto la situazione è comunque sotto controllo, non c'è quindi bisogno di adottare misure ulteriormente restrittive della libertà personale o evocare delle zone rosse perché non è questa la condizione, speriamo anzi che con i tanti tamponi che abbiamo fatto in alcuni di questi comuni siamo arrivati a fare tamponi alla generalità della popolazione almeno in alcune frazioni e quindi confidiamo nel fatto che i Focolai sono stati individuati, tracciati, confinati, seguiti costantemente poi dalle nostre strutture sanitarie anche a domicilio e che questo possa spegnere questi Focolai al più presto.